Allora, Beta House, una bella vittoria oggi, un po' sofferta nel secondo tempo perché stavano per recuperare gli avversari? Beh, assolutamente. Abbiamo vinto per culo, nel senso di Marella che è morta a terra. Beh, effettivamente abbiamo giocato, forse nelle tre partite, la migliore per qualità di gioco. È arrivata la prima tripletta di Eme Serendino, peccato la munizione che a mio avviso non c'era, però vabbè, decide l'arbitro. Però intanto abbiamo fatto, su tre partite, abbiamo fatto il pareggio, quindi continuiamo la stessa. Quindi il ritorno di Cassata e Romano sta giocando positivamente? Vabbè, Germano ha fatto tutto su nella scorsa partita, in cinque. Il nostro miracolo sportivo. Il migliore in campo? Ma secondo me Peppe. Peppe del Perici perché comunque è stato sempre puntuale, soprattutto nelle ribattute. E i movimenti che a me piacciono particolarmente è che poche volte fanno i miei giocatori. Va bene. Ok, complimenti e alla prossima. Grazie. Ciao ciao. Ciao ciao.